Eccoci qua, sono un po' spettinato ma sono in casa qua da solo, ho appena finito le telefonate con la nostra sanità per conoscere la situazione oggi dei dati Covid. Come ogni domenica vi aggiorno qua da caso da dove mi trovo, la sala stampa di Regione è chiusa, ma noi ogni giorno ormai dall'inizio della pandemia facciamo questa diretta o dalla sede di Regione con i nostri esperti o da dove ci troviamo perché voglio che voi sappiate esattamente tutto quello che so io come Presidente di come si sta sviluppando ovviamente l'epidemia nel nostro territorio, i vaccini, i problemi che incontriamo, tutte le notizie che abbiamo dal governo, insomma tutto quello che possiamo evidentemente fare per cercare di tenervi informato. Allora partiamo dai dati dei vaccini, ho già lungamente parlato ieri, poi vi dirò qualche cosa perché noi stiamo comunque continuando a lavorare con le nostre aziende sanitarie ed oggi abbiamo individuato definitivamente tutti i luoghi dove si avverranno i centri di vaccinazione quando usciremo dalla fase 1, cioè quella che riguarda la popolazione ospedaliera e le RSA per andare poi ai cittadini quelli normali, diciamo che vivono a casa loro e fanno altri mestieri che non sono medici, infermieri, operatori sanitari che non vivono in una RSA e speriamo al più presto anche se sapete che qualche problemino sui vaccini c'è per i tempi di consegna, bene, noi abbiamo già individuato in tutte le province i luoghi dove vaccineremo, come lo faremo attraverso dei walkthrough cioè posti dove voi andrete rapidamente, verrete vaccinati e rimandati a casa, ci mancano ancora le notizie, ovvero quando Pfizer rimedierà i ritardi che in queste ore stiamo subendo come sistema Italia quando il vaccino AstraZeneca verrà approvato da EMA, speriamo entro la fine mese, EMA è l'ente regolatore europeo, anche AstraZeneca ha detto che ce li consegnerà un po' più tardi il 15 febbraio e soprattutto che ce ne consegnerà meno e ancora non sappiamo su quale popolazione potremo usare un vaccino che sembra più efficace sui più giovani che non sui più anziani che invece continueremo ad utilizzare con Pfizer e Moderna allora i dati sono ancora una volta dati tutto sommato positivi, certo siamo ancora in pandemia ma insomma rispetto alle altre regioni direi che stiamo andando molto bene 3.117 i tamponi molecolari oggi, 3.695 i tamponi antigenici che ormai vengono considerati quelli di terza generazione uguali ai molecolari quindi direi una buona dose di tamponi anche oggi che è domenica, segno che la nostra sanità ormai si è organizzata per lavorare quasi 7 giorni su 7 sono 293 nuovi positivi e sono 82 in meno i positivi sul territorio di regione continuo a calare l'incidenza cioè il numero ovviamente di casi su 10.000 abitanti ormai in questa settimana che abbiamo chiuso come abbiamo detto siamo sotto 1,8 su 10.000 abitanti e continua a scendere l'RT che ieri abbiamo stimato a chiusura della settimana sotto l'1% in modo senso sotto l'1 di trasmissione, scusate non è una percentuale è ovviamente un moltiplicatore sotto l'1 quindi intorno allo 0,80, 0,75, 0,82 ora vedremo poi le forchette dei vari RIT, sintomi, ospedalizzazioni sapete che è un po' complesso vedete le polemiche in questione con la Lombardia ma i nostri dati sono molto precisi e io mi auguro ovviamente che questi dati ci portino ad accedere alla zona gialla già nel fine settimana di sicuro domani tornano a scuola anche i ragazzi delle secondarie superiore sia pure al 50% con la didattica in presenza e quindi questo è un ulteriore piccolo passo verso la normalità i nuovi casi dove sono? Sono 66 a Imperie, 79 a Savona, come vedete il ponente ha un lieve volume di circolazione in più rispetto a Genova che con tutti i suoi abitanti invece segna solo 79 nuovi casi positivi 27 nel Tiguglio, 41 nella provincia, nella Asla numero 5 dello Spezzino gli ospedali restiamo intorno a quota 650 come eravamo ieri, oggi crescono un po' sono 11 pazienti in più oggi nei nostri ospedali, 667 stabili le terapie intensive a 64 è un numero che non deve ovviamente incidere in alcun modo nelle nostre valutazioni come sapete la domenica è più difficile dimettere dagli ospedali e a cagione del fatto che le nostre residenze per le convalescenze accolgono meno gli ospiti perché hanno meno personale la domenica perché talvolta i reparti hanno ovviamente turni un po' alleggeriti anche nei nostri ospedali per far fiatare quei poveri medici infermieri e operatori sanitari che lavorano ormai sette giorni su sette da molti mesi e quindi è evidente che oggi c'è stata più ingressi che uscite ma sono certo che tra domani e mercoledì torneremo a scendere e ho obiettivo di arrivare a quota 600 entro la fine di questa settimana in ogni caso, questo per dirlo, siamo sotto entrambi i parametri di rischio dettati dall'Istituto Superiore di Sanità del Ministero ovvero il 40% dei posti letto nelle unità mediche e il 30% in terapie intensive siamo sotto di tutti e due rispetto alla percentuale richiesta per essere in fattore di rischio basso per la nostra regione ahimè il numero dei decessi sono 15 anche oggi ma in realtà 10-11 relativi al mese di gennaio altri 4-5 sono relativi a tempi precedenti, ovviamente doloroso comunque ma questo giusto perché stiamo parlando di numeri i numeri sono importanti, il livello della mortalità un filo sotto ovviamente quelli che sono stati i picchi di punta del Covid allora dei vaccini vi ho già aggiornato, anche oggi si è vaccinato 773 nuove vaccinazioni allora vi dico i numeri, sono 65.840 i vaccini che ci ha consegnato, cioè le dosi di vaccino per quei 61.000 persone che dobbiamo vaccinare nella fase numero 1, sono stati consegnati, sono stati già somministrati 43.002 ovvero il 65% se fate le proporzioni ai numeri vi rendete conto che la nostra programmazione è stata una programmazione direi perfetta, la lodo perché non l'ho fatta io per cui anche con i ritardi Pfizer, anche con i ritardi AstraZeneca anche con tutti i ritardi accumulati noi perfettamente siamo in grado di inoculare la seconda dose nel giorno esatto dopo tre settimane dalla somministrazione della prima, infatti 65.800 dosi consegnate siamo al 65% e ce ne sono state consegnate 43.000, quindi siamo perfettamente allineati su tutto questo è chiaro che siamo pronti ad accelerare, oggi abbiamo fatto 773 vaccini, la nostra potenzialità di vaccino supera i 2.000 vaccini al giorno anche nei giorni festivi, non appena ovviamente il commissario al cura e il governo riceveranno le scorte da Pfizer, riusciranno a ottenerle, batteranno i pugni, faranno in modo che le si abbia e noi le avremo, riaccelereremo evidentemente tutte le procedure di vaccinazione quello che non possiamo rischiare è di rimanere senza vaccini per coloro che hanno già avuto la prima dose qualche regione ha corso un po' più rapidamente e ora è rimasta senza, ha difficoltà e anche se facciamo causa Pfizer, anche se insistiamo, anche se battiamo i pugni, non è detto che i tempi vengano rispettati avere una persona che se è fatta la prima dose e non abbiamo la seconda da fargli sarebbe un gran bel problema e allora con grande attenzione noi invece stiamo modulando in modo tale che man mano che ci arrivano i vaccini noi vacciniamo nuove persone e poi vacciniamo le seconde dosi in modo equilibrato in modo tale che chi deve avere la seconda ce l'abbia nei tempi opportuni e stabiliti dalle regole scientifiche e nel frattempo andiamo avanti a vaccinare tutti gli altri quando ne arriveranno di più? Questa settimana arriverà anche moderna che proveremo con il nuovo vaccino sempre simile alla Pfizer ma ne arrivano 1500 dosi poca cosa giusto per fare due o tre RSA che comunque mettiamo in sicurezza e non è poca cosa neppure quella quando arriveranno le dose d'AstraZeneca importanti dal 15 febbraio in poi daremo vita e walk through e cominceremo a vaccinare ovviamente le persone normali poi vi diremo come prenotarvi il vaccino, come vi chiameremo, dove dovrete andare e tutto quanto che stiamo già ovviamente predisponendo ma ve lo diremo quando ovviamente anche noi sapremo quando avremo questi vaccini. Bene, direi che la situazione è questa, non mi riesce da che farvi vedere la lanterna perché stasera sono proprio qua nel mio appartamentino di Genova e quindi come sempre da tradizione vi porto alla finestra vado lento perché ho anche un po' di mal di schiena e vi faccio vedere, stasera tra l'altro è una serata luminosissima, bellissima guardate qua la nostra Genova palazzo delle regioni, piazza dei Ferrari lanterna, aspettate che la avviciniamo un po', eccola qua lanterna laggiù aspettiamo il passaggio del faro insieme porta bene, primo passaggio, pochi secondi secondo passaggio, eccolo qua e poi il nostro bellissimo skyline laggiù con i grattacelini, il matitone del comune le navi da crociera, ferme qua ecco qua un MSC oggi è ripartita dopo il blocco della seconda ondata la prima nave MSC che abbiamo salutato con grande felicità vuol dire un altro piccolo passo verso il ritorno alla normalità vuol dire alcune migliaia di cittadini italiani e liguri che ci lavorano vuol dire che i nostri produttori hanno rifornito di pesto, di vino quella nave che è partita insomma vuol dire ritornare un pezzettino alla normalità guardate che bella Genova qua la cornice delle case illuminate oggi è una serata neppure tanto fredda ma con una vista limpidissima anche se c'è stato ribeccio tutti questi giorni veramente una giornata splendida laggiù c'è il Porto Antico dietro la Torre del Carlo Felice Piazza dei Ferrari da cui abbiamo tolto le luci di Natale che vi facevo vedere sempre ma che rimetteremo uguali l'anno prossimo bellissime come sempre eccoci qua questa è la nostra Genova e io con la nostra Genova vi saluto vi auguro una splendida domenica sera con le vostre famiglie i vostri amici non più di due che se fai sono venuti a trovarvi e fino alle 22 nella speranza che questa settimana grazie ai nostri comportamenti rigorosi, attenti riusciremo a tornare in zona gialla e poi il mio obiettivo è di arrivare a vaccinare tutti, tutti, tutti tanto mentre vi parlo vi faccio rivedere Genova che è più bella di me tutti gli ottantenni e tutti i 70 fino a 75 anni perché lo sapete cosa succede? se noi vacciniamo tutti gli ottantenni vuol dire che il tasso di mortalità del virus cala fino a quasi dell'80% cioè ogni 100 morti che ahimè abbiamo avuto ne avremmo avuti solamente 20 e ogni due persone che finiscono nei nostri ospedali vuol dire che ne avremmo sostanzialmente solamente una il che vuol dire che anche se il virus dovesse continuare a circolare noi potremmo riaprire tutta la nostra economia la nostra vita sociale tutta la tutta la diciamo il nostro modo di vivere avendo messo in sicurezza i nostri anziani e quindi in qualche modo poter tornare tutti quanti alla nostra vita normale ce la faremo prima dei ponti estivi questo è il mio obiettivo nella speranza che il governo ovviamente mi dia i vaccini per poterlo fare la nostra sanità è già tutta pronta lì con la siringa in mano basta che arrivino basta che arrivino i vaccini bene domenica sera a tutti una buona serata e ci vediamo domani con tante cose da fare e da dirci e non Grazie a tutti.